Dolore alla spalla che scende lungo il braccio parte 2. Se non hai visto la parte 1 in cui si parlava di cause cervicali, in questo video invece parliamo di cause della spalla. Quindi vai a vedere il primo video se invece credi di avere un problema alla cervicale. Rispetto alla spalla, il problema principale può essere legato a quella che si chiama la cuffia dei rotatori, i muscoli che vanno a stabilizzare e ruotare la nostra spalla. Quello che succede è che soprattutto in caso di infiammazione della cuffia dei rotatori, in particolare del capo lungo del bicipite, si possono avere dei dolori irradiati lungo il braccio ma che non scendono nell'avambraccio e nella mano. Se si ha formicolio, bruciori o sintomi di questo tipo alla mano, molto probabilmente si tratta di un problema nervoso oppure vascolare che può centrare quindi con la cervicale. Quindi in questo caso si esclude la problematica della spalla o comunque possono esserci tutti e due. In questo caso la terapia consiste in riabilitazione e fisioterapia con esercizi specifici e terapeutici e che nell'arco di 8-12 settimane comportano una guarigione completa. Nei pochi casi invece che non si risolvono si può andare incontro a chirurgia. Iscriviti al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video.